Ciao a tutti, sono Marcella Pidone, lo store manager del punto vendita di Bologna Meraville. Sapete parlare il furbis? No? Allora ci vuole una bella full immersion, venite con me! Forse non tutti sanno parlare il furbis, ma sono davvero in poche a non conoscere il furbi, il simpatico e coloratissimo cucciolo di peluche. E' tornato in una nuova versione furbi boom! Sono l'epico, sono l'epico! Oh com'è buono! Come avete visto, furbi boom ama stare in compagnia e stando con voi formerà un carattere tutto suo. Ha infatti ben 5 personalità differenti e a seconda di come lo tratterrete ne svilupperà una in particolare. Perché nella sua nuova versione furbi boom ha più del doppio delle modalità di interazione rispetto alla generazione precedente. Inoltre può imparare a memoria il suo nome e migliorare, grazie ai vostri bambini, l'uso dell'italiano. Guardate solo i suoi occhi. Grazie ai led si muovono come fossero quelli di un vero cucciolo. Sapete poi cosa succede se incontro il suo simile? Andiamo a festa! Andiamo a festa! Wow 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 wow! E non è tutto qui. Scaricate la sua app dedicata sul voto smartphone o su tablet. Potete tradurre le parole dal furbi, divertirvi con i suoi giochi digitali e interagire con lui in tanti altri modi. E se di furbi boom non ve ne basta uno, con l'app potete schiudere tante nuove uova digitali, di piccoli cuccioli per aumentare la famiglia. È stato un piacere presentarvi il nostro furbi boom. Un caro abbraccio a tutti e Buon Natale! Buon Natale! E adesso per presentare il prossimo giocattolo nomino lo store manager Tamara Bonni del Toy Center di Luca. In bocca al lupo Tamara!